nuovi portali che si aprono per completare il salto il consiglio arturiano 9d di daniel scranton voce e traduzione aura quinta dimensione letture saluti noi siamo il consiglio arturiano siamo lieti di connetterci con tutti voi siamo molto disponibili per tutti voi in qualsiasi momento di qualsiasi giorno amiamo molto l'umanità e amiamo ognuno di voi anche come individui ed è per questo che siamo così disponibili per voi cerchiamo opportunità per dimostrarvi questo amore e tutti voi avete l'opportunità di ricevere di più di ciò che abbiamo da offrire nelle prossime settimane e mesi perché ci sono nuovi portali che si aprono nei vostri cieli e che sono sistemi di consegna per energie a più alta frequenza da tutto l'universo l'umanità è sempre bombardata da energie positive ad alta frequenza ma c'è sempre spazio per altro questo è ciò che abbiamo scoperto insieme a tutti gli altri aiutanti che avete nei regni superiori e sappiamo che tutti e tutto viene trasformato dalla luce e sappiamo anche che voi siete trasformati dall'amore quando vi bombardiamo con una frequenza più alta diventa più difficile per qualsiasi essere mantenere quella frequenza più bassa è un lavoro più difficile da fare è anche più facile per voi ora come non lo è mai stato prima riconoscere quando siete in un momento di bassa vibrazione della vostra esistenza non potete fare a meno di notarlo perché la negatività diventa sempre più forte nella vostra testa o nel vostro corpo sentite le vostre emozioni più pienamente e questo è ciò che è necessario affinché possiate diventare ciò che siete destinati a diventare così noi e gli altri aiutanti come noi vi stiamo solo dando una mano vediamo l'urgenza che c'è sulla terra in questo momento e sappiamo quanto sia importante che i prossimi spostamenti di coscienza siano fatti nel vostro collettivo come sempre inizia con il collettivo risvegliato perché voi siete quelli che ricevono questi messaggi e siete quelli che si aprono abitualmente a queste energie siete anche quelli che vogliono di più e si aspettano di più dalla vita e dall'umanità è tempo per tutti voi di vivere in un modo di quinta dimensione e il lento ritmo con cui vi siete mossi continuerà ad essere accelerato man mano che le cose sulla terra diventano sempre più intense e confuse per le persone vediamo quanti individui ci sono là fuori che cercano di capire tutto usando la loro mente e vediamo quanti si stanno tagliando fuori dalle energie che sono disponibili per loro nel processo se pensate di aver capito tutto fidatevi di noi quando vi diciamo che non è così e fidatevi anche quando vi diciamo che capire tutto non è mai stato lo scopo della vostra incarnazione è sempre stato quello di trasformarvi in ciò che siete veramente nel vostro nucleo e per farlo dovete lasciare andare l'idea di controllare tutto comprese le credenze degli altri dovete arrendervi a queste energie aprirvi ad esse e lasciarvi sbocciare e fiorire perché è tempo per tutti voi di guidare l'umanità verso il completamento del cambiamento di coscienza e non siete mai stati più sostenuti di quanto lo siate ora e questo sostegno continuerà ad amplificarsi ed amplificare in intensità in forza e in potere mentre vi muovete in avanti sul pianeta terra siamo il consiglio arturiano e ci è piaciuto connetterci con voi